...per un momento veramente importante, il nostro amico Angelo Biondi è capace di fare sempre dei miracoli e oggi ha fatto quello di unire tutti voi qui per presentare il suo libro che è senz'altro una testimonianza dell'impegno fattivo e concreto delle persone che vogliono fare qualcosa per noi tutti quindi vi ringrazio, non devo dire altro, grazie